un tipo di persona così che si era offeso per la religione vuol dire che non ha ascoltato il testo perché nessuno ha mai detto di adorare delle statuini o delle immagini sacre Gesù Cristo non ha mai detto una cosa del genere quindi è proprio forse questo testo si interroga su delle cose lascia degli interrogativi, delle domande sulle religioni cioè tu ammazzi 20 persone e puoi andare in paradiso però se ammazzi te stesso o no? punto uno riflette su quello poi è una cosa assurda se ci pensi e poi delle statuine che sono dei simboli religiosi per me vabbè per me il Papa adesso il Papa che se ne va per me è come il rigi che lascia il beautiful per me per cui perfetto altre domande? ma abbiamo poco tempo perché come sapete stasera si replica alle 21 chi non l'ha ancora visto al teatro comunale e poi